Un altro sport americano che segue oltre il meraviglioso gioco del baseball è dai hockey su ghiaccio, in particolare la NHL che è arrivato al momento clou della stagione. Parliamo infatti oggi del tabellone che si è venuto a comporre per la Road to the Stanley Cup, ovvero il trofeo che equivale alle World Series del baseball, trofeo altrettanto prestigioso come il titolo del baseball americano. Playoff che andranno a iniziare il 2 di maggio dopo che ci sarà poi un recupero finale di regular season, ma non conta niente perché le 16 squadre sono state assegnate e di conseguenza questo è il tabellone per quanto riguarda i playoff dell'hockey su ghiaccio che a differenza del baseball sono canoici un po' come la NBA. Di conseguenza ci sono 3 turni prima della finale, tutti i turni sono al meglio delle 7 partite e adesso andiamo a vedere nel dettaglio come si è composto questo tabellone spiegando anche come funziona in generale l'hockey su ghiaccio americano e perché soprattutto è uno sport molto bello da vedere in attesa che ovviamente il baseball vada nella stagione evidentemente clou nel momento più importante, quindi dopo l'hostal game in avanti. Per arrivare a queste 16 squadre come dicevamo si è composta una regular season, una regular season di 82 partite nella termine del quale sono state assegnate le posizioni per il tabellone playoff. Le prime 8 squadre che vediamo per conference si sono qualificate al tabellone principale al termine di 82 partite di regular season, ognuna delle quali dà dei punteggi. L'hockey su ghiaccio è l'unico sport infatti delle leghe professionistiche americane che appunto assegna i trofei diciamo della regular season quantomeno a punti e non in percentuale di vittorie. Tanto è vero che appunto la prima squadra della Easter Conference ovvero i Florida Panthers hanno vinto appunto la conference in regular season con 122 punti, 6 di vantaggio sui Carolina Hurricanes. Terzi sono arrivati come record totale i Toronto Maple Leafs con 115, via via tutti gli altri con New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins e Washington Capitals con appunto l'ultimo spot acquisito. È stata una Easter Conference in realtà bella che decisa già di fatto prima di arrivare ad aprile perché come vediamo il distacco, diciamo meglio il vantaggio di Washington Capitals sui New York Islanders, prima formazione esclusa, era addirittura di 16 punti. Dalla nonna posizione in giù della Conference fino alla sedicesima appunto sono tutte eliminate quindi dall'Eastern Conference salutiamo i New York Islanders, salutiamo i Columbus Blue Jackets o Columbus come sarebbe giusto dire, Columbus come lo dicono loro, i Buffalo Sabres, i Detroit Red Wings, gli Ottawa Senators, i Jersey Devils, i Philadelphia Flyers e i Montreal Canadien che hanno fatto una stagione veramente molto sotto le aspettative. Dall'altra parte, quindi parliamo di Western Conference, abbiamo Colorado che vince appunto la Western Conference con 119 punti, gli Avalanche però non hanno, diciamo, ottemperato alla missione di ottenere il miglior record in generale di tutta la NHL, di conseguenza se ci fosse un'ipotetica finale di Stanley Cup tra la prima dell'Eastern Conference, ovvero Florida, e la prima della Western Conference Colorado, il vantaggio del fattore campo sarebbe per i Panthers e non per gli Avalanche. 6 punti di vantaggio per gli Avalanche sui Minnesota Wild, 113 dunque per la formazione di St. Paul, poi i Calgary Flames terzi con 111, St. Louis quarta con 109, e per tutte le altre con Edmonton che è quinta con 104, i Los Angeles Kings sono appunto sesti con 99, i Dallas Stars sono settimi con 98 e i Nashville Predators prendono l'ultimo posto playoff a 97, segno che qui c'è stata una grandiosa battaglia fino di fatto alla decima posizione, perché appunto fino ai Vancouver Canucks di fatto erano tutti in gioco, fino a due o tre giornate dalla fine, e alla fine a sorpresa vengono eliminati i Vegas Golden Knights, che sono una squadra giovanissima fondata nel 2017, hanno sempre raggiunto almeno i playoff e hanno addirittura fatto una finale Stanley Cup al primo anno di franchigia, persa con i Washington Capitals, eliminati anche i Vancouver Canucks, che in realtà hanno abdicato molto molto prima, così come Fanta eliminate i Winnipeg Jets, i San Jose Sharks, gli Anaheim Ducks, i Chicago Blackhawks, il Seattle Kraken, che sono la 32esima squadra dell'NHL che ha esordito quest'anno, e hanno comunque battuto gli Arizona Coyotes, che sono arrivati dietro ai Kraken per tre soli punti, per una panoramica dell'NHL che appunto vi ha fatto capire che appunto come l'NBA in 16 appunto team disponibili, 8 si sono qualificati. Vediamo però come vengono distribuiti adesso i posti sul tabellone playoff dell'NHL in base ai criteri di regular season, perché abbiamo visto le classifiche della conference, ma nell'hockey si ragiona per division. Si qualificano ai playoff le prime tre formazioni della divisione direttamente, di conseguenza prendiamo la Eastern Conference, prendiamo la Metropolitan Division, Carolina, Rangers e Pittsburgh Penguins sono appunto qualificati direttamente, così come sono qualificati direttamente i Florida Panthers, i Toronto Maple Leafs e i Tampa Bay Lightning. Ci sono poi due wildcard che completano i due ultimi posti disponibili per appunto arrivare alle 8 squadre per conference, e le wildcard vengono date dalle due migliori squadre non vincitrici di division con appunto il record migliore, in questo caso i Boston Bruins con 107 punti e i Washington Capitals con 100. L'accoppiamento del tabellone di conseguenza sarà la prima wildcard, affronterà appunto la prima vincitrice della division, di conseguenza avremo un Carolina Boston, mentre per quanto riguarda il secondo accoppiamento avremo Florida contro Washington. Stesso discorso per quanto riguarda la Western Conference, dove abbiamo una Central Division che ha visto qualificati direttamente i Colorado Avalanche come primi, Minnesota Wild come secondi e i St. Louis Blues come terzi, e una Pacific Division che vede qualificati i Calgary Flames come primi, gli Edmonton Oilers come secondi e i Los Angeles Kings come terzi. Le wildcard dopo il marasma generale della regular season alla fine si sono aggiudicate i Dallas Stars e i Nashville Predators, tutto questo per creare il tabellone di qui sopra. Quindi gli accoppiamenti saranno per la Western Conference Colorado Avalanche, Nashville Predators, Minnesota Wild, St. Louis Blues. Dalla parte bassa invece avremo Calgary Flames contro Dallas Stars e Edmonton Oilers contro Los Angeles Kings. Dal basso verso l'alto invece per la Eastern Conference avremo Pittsburgh Penguins contro New York Rangers, Boston Bruins contro Carolina Hurricanes, i Toronto Maple Leafs contro i Tampa Bay Lightning e alla fine i Florida Panthers contro i Washington Capitals. Ogni turno dei playoff sarà molto interessante da vedere e da seguire perché le 16 squadre rimaste, 8 per conference di certo non sono di certo banali da appunto trascurare e ogni turno può avere tante tante sorprese. E adesso andiamo a analizzare quelli che sono appunto i primi turni a disposizione, visto che l'obiettivo di questi video sull'Ok su Ghiaccio è di farne tre all'anno, uno per presentare il tabellone appunto dei playoff, uno per parlare della Stanley Cup facendo un recap generale di tutto il tabellone dei playoff e poi fare il post commentary della Stanley Cup, ricordiamo che i campioni in carica sono i Tampa Bay Lightning, anzi più i campioni uscenti perché hanno vinto sia nel 2020 sia nel 2021. Adesso invece che siamo tornati a un accompagnamento più tradizionale per lo svolgimento della regular season e per i playoff vedremo se appunto la formazione della Florida riuscirà a confermarsi. Ma partiamo adesso dalla analisi di ogni turno per quanto riguarda i playoff e ci aiutiamo in questo caso con la schermata di ESPN, peraltro televisione che in America ha preso tutti i diritti dell'Ok su Ghiaccio, mentre in Italia sono trasmessi da Sky una partita a settimana per regular season e adesso il programma per i playoff viene aumentato. Di conseguenza sia per il meraviglioso gioco del baseball sia per l'Ok su Ghiaccio, Sky mi regala tantissime gioie. Peraltro i commentatori di l'Ok su Ghiaccio in Italia sono Pinto Nicolai e Danilo Freri per quanto riguarda anche il baseball e abbiamo anche Moreno Molla che si aggiunge al team della NCA d'Italia. Partiamo però adesso da ogni turno per quanto riguarda i playoff e partiamo dalla Easter Conference, quindi il primo accoppiamento che dicevamo, Florida Panthers contro Washington Capitals. Abbiamo visto come i Florida Panthers sono qualificati come primi e in generale come miglior squadra della Easter Conference e si beccano appunto la seconda wild card, quindi l'ottava appunto della Easter Conference. Ed è un accoppiamento però tutt'altro che trascurabile perché già in primo turno avere Florida Panthers contro Washington Capitals è assolutamente un accoppiamento da seguire. Secondo me è una serie che finirà in sei partite almeno, forse sette. Mi auguro di vedere i Florida Panthers vincitori perché sono già una squadra che ha dimostrato in regular season di avere un attacco incredibile, la media di gol a partita segnati è superiore a quattro che è veramente qualcosa di allucinante perché parliamo evidentemente di ok ghiaccio. Di là però abbiamo i Washington Capitals che hanno dall'altra parte uno zar mostruoso, Aleksandr Oviechkin. Sì, i giocatori russi giocano in NHL nonostante la situazione che conosciamo tutti nel conflitto russo-ucraino ma evidentemente l'ANHL ha fatto scelte diverse. Si è dissociata dalla guerra in Russia, dagli atti del governo russo, ma ha tutelato i giocatori russi e sono tanti evidentemente in questa NHL. Tra cui evidentemente lo zar Aleksandr Oviechkin che è arrivato a un totale di 50 e più gol in questa stagione. Qualcosa di incredibile. Si sfidano dunque in questa sfida di primo turno due formazioni che in condizioni normali secondo me potevano incontrarsi più in là. Da questo punto di vista io vedo Florida favorita, però non è da stupirsi qualora ci fosse un clamoroso upset. Da tenere d'occhio sicuramente per appunto le due formazioni. Jonathan Uberdo per quanto riguarda i Florida Panthers che è la sinistra titolare della prima linea con 115 punti, 30 gol e 85 assist per lui e di contro abbiamo appunto lo zar Aleksandr Oviechkin che appunto con 50 gol e 40 assist ha fatto una stagione veramente irreale e ricordiamo che Oviechkin di certo non è più un ragazzino. Si gioca appunto come dicevo al meglio delle sette partite, si parte appunto col fattore campo in vantaggio per Florida con il sistema 2-2-1-1-1 di conseguenza prime due partite a Florida, seconde due partite a Washington e poi appunto alternanza tra Florida e Washington. L'altro accompagnamento per quanto riguarda l'Atlantic Division è appunto Tampa Bay Lightning contro Toronto Maple Leafs, o meglio sarebbe più giusto dire i canadesi prima e i Tampa Bay Lightning dopo per due squadre che sono veramente tanto equilibrate. Non mi stupirebbe di vedere una partita magari più aperta per Tampa Bay nonostante il piazzamento in regular season, ma anche qui secondo me è minimo se i pari ci scappano. Tampa Bay, ripeto, è bicampione uscente e deve sicuramente fare dei playoff all'altezza per confermare il titolo che appunto è stato confermato nel 2021 dopo il 2020. Nessuna squadra peraltro oltre i New York Islanders del 1986 si è ripetuta per tre volte consecutive, sarebbe una primissima volta dopo appunto quel D. Sempre qualcosa di clamoroso. I Tampa Bay Lightning secondo me possono attentare quantomeno arrivare fino in fondo, poi da lì a vincere la Stanley Cup è veramente un conto. Anche questa è una bellissima squadra da vedere, ma attenzione a Toronto che non vince da tantissimo tempo e ha finalmente una squadra tanto competitiva e l'abbiamo visto anche in regular season. I leader sono ovviamente Austin Matthews per quanto riguarda i Toronto Maple Leafs con 60 gol e 46 assist. E dall'altra parte abbiamo Stephen Stamkos, il capitano, con 106, ma Tampa Bay veramente può contare su altre qualità importanti. Vedi per esempio Nikita Kucherov con la casacca, numero 86. Altro accoppiamento che abbiamo visto è Carolina Hurricanes contro i Boston Bruins. Abbiamo parlato sempre di attacchi spettacolari e Carolina rientra appunto in questa categoria. A fronte ai Boston Bruins, in una sfida che secondo me è abbastanza chiusa, vedo appunto indirizzati verso tutto un successivo gli Hurricanes, visto anche il divario appunto che abbiamo visto anche in regular season. I leader sono Sebastian Ajo per quanto riguarda gli Hurricanes. Lo vedese ha fatto una grandissima stagione con 81 punti, 37 gol e 44 assist. E dall'altra non poteva che essere Brad Manshan, il leader dei Boston Bruins, con 80, quindi attenzione evidentemente a questo accoppiamento. Passiamo all'ultimo accoppiamento della Easter Conference, che vede appunto i secondi e i terzi qualificati della stessa divisione, ovvero New York Rangers, Pittsburgh Penguins. Se qualcuno se lo chiedesse, nella nostra statistica, io tifo i Pittsburgh Penguins, come si può evincere dal cappellino dimostrato in questa occasione. Perché sono palesemente innamorato di Sidney Crosby in particolare, ma anche di quello bravo col numero 71, ovvero Evgeny Malkin, che però comunque non ha avuto le grandi stagioni che ha avuto in passato. Sono anche squalificato per quattro gare per condotta antisportiva, ma comunque questo è un accoppiamento veramente incredibile. Pittsburgh non è così favorita rispetto a questi Rangers, potrebbe andare bene se andasse a impegnare la formazione new yorkese. Non è più evidentemente la formazione di Pittsburgh, che aveva vinto due titoli consecutivi nel 15 e nel 16, ma attenzione perché non sarebbe strano vedere un upset. È una serie veramente tanto equilibrata, abbiamo capito già che con questi playoff a 16 squadre l'NHL offre subito i primi turni veramente tanto equilibrati. E chissà che i miei Pittsburgh Penguins non possono fare una buona strada verso il secondo turno, dove però non li vedo così favoriti qualora passassero. I leader sono Artemi Panarin, per quanto riguarda i New York Rangers, con 96 punti, 22 gol e 74 assist, e ovviamente il leader dei Penguins non poteva che essere il capitano. Sidney Crosby con 84, 31 gol e 53 assist. Quindi attenzione a Est perché sarà veramente un macello, così come sarà un macello per la Western Conference, non magari già al primo turno perché il bordello si è visto più per la lotta wildcard e qualificazione ai playoff. Ma comunque facciamo un'analisi anche del primo turno della Western Conference e partiamo dalla Central Division dove abbiamo la sfida tra i Colorado Avalanche e i Nashville Predators. I Nashville Predators sono arrivati letteralmente per il rotto della cuffia a questa qualificazione ai playoff e contro questi Colorado Avalanche secondo me non c'è partita che tenga. Potrebbe non di questo essere uno sweep, ma vedere Colorado vincitori almeno in cinque non sarebbe di certo un'affermazione così clamorosa. Colorado ha veramente una prima linea incredibile che realizza tanto e soprattutto costruisce tanto gioco, in particolare con Nathan McKinnon, Micko Rantanen, quando c'è anche Nazem Kadri che da due anni sta facendo delle stagioni veramente irreali. Nashville secondo me in questo turno sembra essere un po' la vittima sacrificale. Vedremo poi Colorado alla riprova dei turni successivi, ma ne riparleremo evidentemente nel turno della Stanley Cup. Micko Rantanen appunto che è stato il leader evidentemente degli Avalanche per quanto riguarda i punti, per quanto sia una statistica abbastanza platonica, 92 punti, 36 gol e 56 assist. Per quanto riguarda addirittura i Predators, il leader è un difensore, ma è un difensore prestato all'attacco perché lo svizzero Romagnosi ha fatto addirittura più punti di Micko Rantanen che è un signor giocatore, 23 gol e 72 assist per quello che è di fatto il vero playmaker. della formazione di Nashville Tennessee che è stata veramente brava a qualificarsi ai playoff. Accoppiamento molto interessante, quello tra i Minnesota Wild e i Central East Blues che sono arrivati secondi e terzi in questa Central Division. I Wild hanno vinto con 4 punti di vantaggio, il seed migliore di conseguenza, il fattore campo nella serie. È una serie interessante, secondo me St. Louis ha chance di vittoria in questa serie, è pronto a essere smentito, ma anche Minesotti è veramente una bella squadra. Io però se devo buttare un pennino, appunto lo punto sui Blues in 6. I leader dei due team sono Kirill Karlsproff, uno dei rookie, sophomore meglio, perché in realtà ha esordito l'anno scorso, più importante di questa Lega, con 108 punti, 47 gol e 61 assist, ha fatto meglio di lui soltanto Vietkin, dei leader che abbiamo visto in questa schermata, e dall'altra parte abbiamo un altro russo fondamentale, Vladimir Tarasenko, il di fatto giocatore più rappresentativo dei Central East Blues che peraltro hanno anche vinto un titolo nel 2019 e Tarasenko era presente in quella squadra insieme a Ryan O'Reilly, ad Alex Pietrangelo, insomma altri giocatori iconici, Tarasenko di certo lo è, 82 punti per il russo, 34 gol e 48 assist. Passiamo adesso alla Pacific Division dove abbiamo il accoppiamento con i Calgary Flames contro i Dallas Stars, dalla Stars che non sono più in realtà la formazione che aveva comunque conteso il titolo a Tampa Bay, ma è una formazione da tenere d'occhio contro questi Flames, in realtà non dovremmo avere grandi chance, vedo i canadesi assolutamente favoriti e il divario anche in regular season lo ha ampiamente dimostrato. I leader per quanto riguarda i Flames abbiamo Johnny Godreau, uno dei giocatori più iconici della formazione canadese con 40 gol e 75 assist, dall'altra parte abbiamo Joe Pavesky, altro giocatore leggendario, con 81 punti, 27 gol e 54 assist. Ultimo accoppiamento, un accoppiamento molto interessante è Edmonton Oilers contro i Los Angeles Kings. Los Angeles Kings che peraltro dovranno fare a meno di Drew Doughty che è uno dei giocatori più rappresentativi di questa formazione insieme allo sloveno a Shekopitar. Doughty però appunto si è dovuto operare al posto dunque non avrà possibilità di giocare i playoff e questa è una partita molto importante per i Kings che dovranno affrontare il miglior giocatore evidentemente del gioco in questo momento che è Conor McDavid, giocatore canadese sempre appunto arruolato per gli Oilers, giocatore totale che ha una visione di gioco che secondo me ha soltanto lui, ha una visione di base sui pattini veramente superiore alla media e da vedere è veramente uno spettacolo. I Kings potrebbero essere bravi secondo me se mettono in difficoltà gli Oilers con un turno magari in sei partite. di più sarebbe un successo di meno sarebbe probabilmente anche troppo poco però comunque il divario è netto e gli Oilers dovranno un po' come gli Avalanche e un po' come anche i Flames arrivare alla riprova del secondo turno. La Western Conference come playoff avrà tanto da dire secondo me appunto dalle semifinali di Conference in avanti. I leader per quanto riguarda queste due squadre sono ovviamente Conor McDavid con 79 assist numero veramente clamoroso e 44 gol perché Conor McDavid saprebbe anche segnare e dall'altra parte abbiamo un altro assist ovvero Anshie Kopitar 19 gol e 48 assist qui i numeri dei Kings non sono probabilmente eccelsi ma i Kings sono letteralmente una squadra hanno tantissimi giocatori molto importanti che segnano di fatto nello stesso livello e non hanno una stella che eccelle come abbiamo visto in altri team veri per esempio Washington veri per esempio Pittsburgh veri per esempio anche Colorado invece appunto i Kings sono letteralmente un collettivo di conseguenza saranno interessanti da vedere ma contro gli Oilers secondo me non avranno tante chance e questo era l'ultimo accoppiamento per quanto riguarda i playoff delle NHL che dunque di conseguenza partono il 2 di maggio con questi accoppiamenti evidentemente sarà una road to the Stanley Cup final assolutamente incredibile mi aspetto dell'occhio spettacolo adesso i giochi si fanno veramente serio un po' come nel baseball dallo star game in avanti nei playoff si gioca davvero qui è la stessa cosa abbiamo visto una regular season giocata a intensità ridotte adesso nei playoff avremo tantissima energia tante cariche alle balaustre tanto ritmo e mi auguro partite interessanti ulteriore nota di regolamento prima di concludere il podcast cambia anche il regolamento dei supplementari per quanto riguarda i playoff anziché la regular season in regular season se si finisse in parità ai tempi regolamentari che sono ricordo 3 da 20 minuti ciascuno per un totale di 60 minuti nella regular season si va in 3 contro 3 in un tempo in un tempo supplementare e poi calci di rigore logicamente invece nei playoff i calci di rigore non ci sono c'è appunto l'overtime canonico quindi in 5 contro 5 20 minuti si finisce in parità anche nel primo overtime si va avanti perché la squadra non segna e sarà veramente tanto tanto spettacolo ci vediamo di conseguenza per la Stanley Cup Final dove faremo un recap del tabellone che abbiamo visto dei playoff della NHL ma gli sport americani non finiscono qui sul mio canale perché martedì ci ritroveremo per la prima review completa della regular season di MLB o se preferite il meraviglioso gioco del baseball in ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questo podcast di questa NHL review che appunto avrà degli appuntamenti canonici oramai da qui fino anche agli anni prossimi con almeno 3 video all'anno per quanto riguarda i playoff il vero clou di questa zona di NHL il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti